yo wheelers buah a tutti e bentornati sul canale come sempre qui è il vostro alas che vi parla piacere di rivedervi siamo qui per il round numero 11 di questa carriera formula 2 sofia floers alla guida della campos se non avete visto il round numero 10 il gp d'italia cliccate in questo momento nell'angolino alto a destra recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio siamo in quel di sochi russia un circuito che nella realtà non mi ha mai fatto impazzire lo trovo un circuito piuttosto noioso con non tantissime opportunità di sorpasso e soprattutto monotono in quanto sono tante curve a gomito un po come l'azerbaijan baku però in azerbaijan sicuramente le gare che possiamo vedere sono molto molto più divertenti comunque per quanto riguarda il gioco mi sono sempre trovato bene a soci anche perché appunto un circuito piuttosto facile per via della poca variazione di altitudine lungo il tracciato e anche con le formula 2 non mi sono mai trovato così male l'ho provata veramente poco ma anche con la campos di sofia floers abbiamo delle buone possibilità soprattutto perché abbiamo un'ottima velocità di punta che ci potrebbe aiutare in fondo ai due rettiline principali quindi il rettilineo dei box e il rettilineo opposto che però sarà più complicato in quanto la frenata molto pesante avviene quasi in curva quindi potrebbe essere un punto in cui ci sono delle situazioni molto molto al limite vedremo cosa sarà in grado di fare la nostra sofia floers alla guida della sua campos è stata un'interessante sessione di prove libere e ora rivediamo i primi tre la donna di ghiaccio schumacher e marcus armstrong grazie per essere stati con noi in questa giornata di prove libere a prestissimo per nuove emozioni di formula 1 mezzo secondo di vantaggio su mick schumacher ma ho la sensazione che non sia questo il reale vantaggio vediamo le qualifiche un'ottima velocità Grazie a tutti. 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 Hai vinto la gara. Oggi hai fatto una gara fantastica. Vittoria incredibile per la Campos con una gran prestazione. Davide, qual è stato il segreto di questa vittoria? Ok, si stanno dirigendo ora al podio. La Campos ha fatto passi da gigante e conquistare il gradino più alto del podio proprio oggi deve avere un sapore speciale per loro. Una domanda per te Davide, chi è il pilota del giorno a tuo parere? Credo che oggi nominerò la pilota della Campos. Ha spinto moltissimo regalandoci una prestazione fenomenale. È stato un piacere da guardare. Vediamo ora la classifica costruttori. La Campos passa in testa alla classifica. Dopo questa gara vincente sarebbe da pazzi perdersi il prossimo appuntamento. Arrivederci e buon proseguimento. Ci saranno tantissime polemiche nel post-gara. Ha fatto sa che Sofia Flores va a vincere con il giro veloce davanti a Yuki Tsunoda e Marcus Armstrong. Lundgaard, Gala, El Tiktum, Schumacher, Heilot, Schwarzman e Zou per completare la zona punti. Poi Ghiotto, Dele, Trasmazzuscita, Mark, Loweitken, Piquet, Mazze, Pinsato, Drugovic, Alesi, Nissani e Daruvala a chiudere la graduatoria. Ora è tempo di scendere in pista per la Sprint Race. I piloti sono già in pista e vogliono chiudere in bellezza con la Speed Race che vede le prime otto posizioni in griglia invertite rispetto all'ordine di arrivo di ieri. Salve a tutti, qui è Alex che vi parla. Oggi mi trovo nella cabina del commento con il campione GP2 2012, Davide Valsecchi. Davide, i partecipanti oggi sembrano carichi. Cosa ci aspetta? Si può vedere nei loro occhi, Alex. Il desiderio di questi piloti è di salire in Formula 1. Certo, quello è l'obiettivo principale. Ma prima devono vincere qui. Nessuno ha l'auto più potente. Non c'è nessun vantaggio. Si riduce tutto alle abilità dei piloti. Quindi li vedremo combattere duramente ad ogni curva e probabilmente anche spingersi un po', il che rende la gara ancora più esaltante. Siamo anche fortunati. Forse è la posizione più elevata da quando abbiamo il problema della griglia casuale. Partiamo dalla P8 per questa Sprint Race. Speriamo di fare bene, come nella feature. Si accendono le luci di questa Sprint Race. Cinque giri fondamentali per noi. Scattiamo, come detto dalla P8. Si spengono le luci. Grandissima partenza ancora di Sofia Floerj che blucia Tictum e si prende la settima piazza. E subito punta Tsunoda per una posizione fondamentale. Scia lunghissima sul pilota giapponese della Carly. Lo affianchiamo e riusciamo a prenderci la posizione. Poi in staccata stacchiamo profondissime. Ancora un leggero contatto stavolta con Callum Milot. Riusciamo ad affiancarlo prima di curva 4 e vediamo se riusciamo a mantenere la nostra posizione ideale. Siamo molto più veloci di Callum Milot. Lo affianchiamo, lo passiamo. E prima di curva 5 siamo davanti. E ancora P4. Stavolta quattro posizioni guadagnate da Sofia Floerj. Durante la partenza di questo Gran Premio partire da dietro è un grandissimo vantaggio. Soprattutto se è una vettura scarica che ti permette di avere una grande velocità di punta. Siamo velocissimi comunque. Anche nel settore centrale riusciamo a mantenere benissimo il passo di Guan Yuuzhou. Tagliamo leggermente all'interno. E forse ci avvantaggiamo leggermente nei confronti della pilota cinese della Uni Virtuosi. Usciamo fortissimo. Prima del rettilineo siamo vicinissimi. Possiamo prendere una scia molto importante. Sul pilota della Uni Virtuosi. Come con Daruvala. Lo affianchiamo e lo passiamo in staccata. Anche se stacca molto forte Guan Yuuzhou. Ma riusciamo a chiudere all'interno. E ci prendiamo già la terza posizione. Siamo già sulle posizioni del podio per questa sprint race. Davanti a noi. Colui con cui abbiamo avuto il contatto nella feature race. Jehan Daruvala. Dovremmo stare molto attenti nel tentare il sorpasso sul pilota indiano per evitare di buttare benzina sul fuoco. Rischiando appunto un contatto di rovinare ancora la sua gara. Ma rischiare anche di rovinare naturalmente la nostra. Dall'ultima curva riusciamo a uscire molto molto bene. Però purtroppo siamo ancora piuttosto lontani dal pilota indiano della Carlin. Anche se guardate, grazie alla scia, quanto riusciamo a guadagnare. La nostra vettura è veramente veloce. Ci facciamo vedere all'interno per disturbare il pilota della Carlin che si guarda negli specchietti perché sa che Sofia Floerce è lì pronta a prendere la posizione. Guardate quanto è veloce. Sofia Floerce in curva 4 addirittura riesce ad affiancare Jehan Daruvala. È un sorpasso fantastico come quello su Yuki Tsunoda nella feature race. Inizio giro 2. Sofia Floerce è già in P2. Grazie Jeff. Giro veloce per Lundgaard. Subito battuto al giro 2. Appunto inizio giro 3 da Sofia Floerce che però è molto lontano. È fuori dalla zona DRS da Lundgaard ma non ci mette molto. Alla fine del terzo giro è già rientrata in zona DRS e potrà già attivarlo all'inizio. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Eccolo. Mentre Jeff parlava ha attivato il DRS e siamo ancora molto molto lontani per tentare l'attacco nei confronti del pilota davanti a noi ma guardate in staccata quanto si avvicina Sofia Floerce riuscendo a non andare lungo leggermente una scodata al posteriore della vettura in accelerazione poi in curva 4 inutile velocissima traiettoria diversa per Sofia Floerce che si stringe più tardi e riesce anche a fare molto bene curva 5 si avvicina tantissimo a Christian Lundgaard 5 decimi di vantaggio per il pilota là davanti ma le gomme cominciano forse a surriscaldarsi perché qualche problema in inserimento della vettura sull'anteriore sentivamo guardate quanto abbiamo difficoltà a portare la vettura vicina al punto di corda nonostante tutto siamo molto veloci qua guardate ugualmente molto lunghi dobbiamo addirittura scendere in terza in una curva che solitamente facciamo in quarta qua in staccata però ci avviciniamo tantissimo prendiamo benissimo il punto di corda e stavolta abbiamo il DRS possiamo tentare l'attacco in fondo in questo penultimo giro siamo al quarto giro sarebbe fondamentale prendere la vittoria anche in questa sprint race ci avviciniamo proprio nella fase finale staccata profondissima di Sofia Floerch che riesce clamorosamente anche a mantenere la vettura nei limiti del tracciato sorpasso che è buono e Sofia Floerch quindi si prende la P1 alla fine del giro purtroppo bruttissimo errore di Sofia Floerch che all'ultima curva sbaglia mettendo trazione a terra perde il posteriore e Lundgaard è molto vicino avrà a disposizione anche il DRS quindi è molto molto pericoloso il pilota dietro di noi fortunatamente però la vettura di Sofia Floerch è velocissima sul dritto come abbiamo detto più volte Christian Lundgaard non riesce ad avvicinarsi per tentare l'attacco quindi Sofia Floerch nella seconda parte del circuito allunga ulteriormente si tira fuori dalla zona DRS e con grande tranquillità va a vincere la sprint race è stato pazzesco si ce l'hai fatta complimenti grande prestazione della Campus e vittoria straordinaria Davide quali fattori hanno fatto la differenza oggi? è il momento di consegnare ai piloti i trofei per la gara di oggi e a quanto pare nel peddo chi in molti sono felici per questo risultato sul gradino più alto del podio sale la Campus fine settimana da sogno per Sofia Floerch e la sua Campus massimo dei punti possibili raccolti 4 punti per la pole position i 25 per la vittoria nella feature race i 15 punti per la vittoria nella sprint più i 2 punti nella feature e i 2 punti nella sprint per il giro veloce e abbiamo recuperato tantissimi punti nei confronti della Carlin come detto ci saranno sicuramente tanti tanti dibattiti nella post gara per l'incidente che ha coinvolto la pilota tedesca della Campus e Jean Daruvala nella feature race in questa sprint Floer Schlundgarzou sul podio Armstrong Daruvala su Noda Galilele Piqué a completare la zona punti poi Tiktumailot Delletras Sato Schwarzman Schumacher Markelov Alessi Mazepin Drugovic Itken Matsushita Nissani e Ghiotto per quanto riguarda le classifiche Sofia Floerch 404 Yukitsunoda in seconda 248 sono 156 punti di vantaggio ma per la classifica costruttori fondamentale la Campus è in prima posizione con 15 punti di vantaggio sulla Carlin e attenzione all'Art Grand Prix in terza piazza a meno 63 ragazzi se vi è piaciuto questo episodio lasciate un like commentate iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti iscrivetevi anche ai miei canali social per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite e qui avete il resoconto i video dell'incidente con Daruvala così potrete fare le vostre valutazioni naturalmente state attenti ai punti di frenata di Sofia Floerch ma soprattutto anche all'errore nel contrattacco provato da Daruvala vi do appuntamento al prossimo episodio l'ultimo round GP di Abu Dhabi alla prossima ciao Willers iscriviti al canale